E per i consulenti entra Luigi Baruffa Ed ora il suo sfilante all'angolo rosso, Luigi Mestiere, fa lo studente Entra Filippo Giammaroli Prendi un po' dentro, prendi un po' dentro Vai giù, te lo giù, te lo giù Ok, te lo lì Lavora lì, con calma Spina sempre Spina sempre Oppure prova a fare la pettura classica della guaglia Pianta lì quel ginocchio Fai gesto, gesto Prendi un po' dentro Sì, te lo giù Quello che sta andando, quello che sta andando Ok, che, 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 che. Ma è il palito, 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 ma è il palito Tira dietro, metti il tuo gancio con la gamba sinistra. Grazie per la visione!